Ciao Martina, grazie un sacco di essere qua, sono ovviamente molto contento di averti qui per condividere queste piccole domande su quello che abbiamo fatto assieme. Ti chiedo come prima cosa che cosa stavi cercando quando ci siamo incontrati, magari parla anche un po' di te, di chi sei, di cosa fai in breve, e che cosa ti ha tratto in particolare del percorso che proponevo. Che cosa stavi cercando appunto? Allora, io sono Martina e ho studiato recitazione a Torino per un po' di anni, tre anni, e quindi ho vissuto lì. E ci sono tante altre cose oltre a questo ovviamente, però parlo di questo perché in realtà era il background da cui partivo quando ho iniziato a fare un percorso con te. E mi sentivo in trappola, perché ero tornata a casa, ero tornata a Padova, in un paesino di campagna, piuttosto chiuso, e in tutti i sensi. E venivo dalla grande città, tra l'altro in un ambito teatrale, in cui le cose sono molto più fluide, diverse, aperte sotto molti aspetti. Soprattutto considerato la città, cioè già solo la città, no? Il fatto di muoversi gli orari, il fatto di non vivere con i miei. E facevo veramente fatica a vivere qui, perché non riuscivo a trovare il mio spazio, il mio modo, il mio... Boh, un mio modo di stare che non mi facesse sentire soffocata. Ok. E infatti una delle cose, uno dei motivi per cui ho iniziato era proprio il respiro, perché mi mancava il respiro. Sentivo che fisicamente non riuscivo a respirare, infatti non so, ti ricordi, non riuscivo a sbadigliare del tutto. Esatto, ma mi fermavo sempre un po' prima, no? E quindi cercavo un modo per non evadere dalla gabbia, ma togliere proprio le sbarre. Cioè, come non sentirsi più in gabbia, no? Non è tanto un andare a rompere le sbarre con violenza, ma è tanto un accorgersi che in realtà non siamo in gabbia. Esatto, e che la gabbia ce la facciamo noi. E la prova evidente è che adesso vivo qua, quindi, cioè, nel senso, che cosa è cambiato? Dimmelo tu, che cosa è cambiato, cosa hai ottenuto? Ah, ho imparato ad accettare... Oddio, ho imparato ad accettare e sono troppo brava, no? Ho iniziato ad accettare, che è più realistico, diciamo, che ci sono tante emozioni e che è giusto provarle tutte. E è l'eccito provarle tutte. In realtà, a chiudermi in gabbia era il non voler provare determinate emozioni, anche perché non mi lasciavano provarle. Il contesto in cui vivevo mi censurava molto della persona che ero e delle emozioni che provavo e il frustrarmi come persona mi portava ad avere un sacco di rabbia che non riuscivo ad esprimere nel modo giusto perché non ci si può arrabbiare, per cui in realtà ero triste, per cui poi esplodevo, per cui poi venivo scastrata perché esplodevo. Per cui ero tutto quanto un circolo vizioso senza fine e invece ho imparato a dire no, sto male, accettalo, che ti vada bene o che no, io sto male. Eh, nella pratica che cosa ti ha permesso di fare, che passaggio in particolare questa cosa? Mi ricordo una volta in cui ce l'avevo a morte con una persona, però non trovavo un motivo razionale per esserlo. Cioè, sì, però non mi sembrava politically correct esserlo. E tu mi hai detto, ok, ma questa persona qua non c'è, anzi queste due persone, in questa stanza non ci sono. Vai. Di tutto quello che vorresti dire se non esistesse il politically correct. Me lo ricordo proprio, sì, in modo elegante le ho mandate a quel paese, cioè, non ho usato esattamente questi termini. E quello è stato proprio, cioè, me lo ricordo proprio perché lì non c'era riuscita, cioè, non bene. E non mi... continuavo a non sembrarmi giusto. Questa cosa pian piano ho imparato a farla in macchina in tangenziale. La macchina in tangenziale è sempre bellissima. È assolutamente uno strumento meraviglioso. Santissime tangenziali. E quello di cui parli è un tema molto cardine del percorso che propongo alle persone, che è quello proprio del giudizio, no? Nel senso che quella vocina che ti diceva cosa era politically correct per te, è quello che poi è la voce che ci accompagna tutto il giorno, tutti i giorni, e che ci dice continuamente questo è giusto farlo, questo invece no. Anche... e ha ragione, no? Perché se esiste ci ha portato fino a qui, vuol dire che ha funzionato, siamo vivi. Alcune cose però le fa veramente esagerare dentro di noi e soprattutto quando è rivolta verso di noi, perché quando è rivolta verso gli altri magari ce li becchiamo i vaffanbrodo, no? Quando è rivolta verso di noi siamo veramente in trappola. Infatti quello che mi veniva da dire anche è che non vuol dire che mi hai autorizzato a provare rancore nei confronti di questa persona, ma semplicemente di ammettere che ero arrabbiata come un bufalo, per cui avevo il diritto di esserlo e di mandarla anche a quel paese. E in realtà sei stata molto politically correct perché con lei magari non hai usato quella violenza che in realtà sentivi magari dentro, quell'aggressività. E quindi riusciamo anche a mantenere dei rapporti più puliti con gli altri, proprio perché quella carica che viene da tante piccole gocce che riempiono il nostro vaso, evitiamo di far traboccare il vaso con l'ultima goccia e di svuotarsi addosso alle altre persone inutilmente. Molto interessante. E poi un'altra cosa che ho imparato e che mi è servita tantissimo e che continuo a sentire è il fidati. Cioè, abbi fiducia di quello che senti, perché se senti quella roba lì qualcosa vorrà dire. Non negarla necessariamente perché non ti sta bene o non sta bene a qualcun altro. Che poi non vuol dire necessariamente che tu debba prendere e fare, ma fidati di quello che senti. E infatti è stata la cosa che poi mi ha permesso di... Cioè, io ero in trappola perché ero entrata in un cerchio infernale da cui non riuscivo a districarmi. E ho dovuto prenderne le distanze, ho dovuto tornare a Torino un altro anno, risistemarmi, risistemarmi, chiudere determinati cerchi, vivere delle esperienze che non avevo ancora avuto il tempo per poi poter serenamente dire, ok, adesso è giunta l'ora e tornare a casa serena. Infatti adesso non è cambiato nulla rispetto a due anni fa, però è cambiato tutto. E adesso sono felice anche stando a casa. E nella pratica, anche su quello che stai facendo ora, no? Nei tuoi progetti, che cosa può aver sostenuto nella tua vita pratica? Abbiamo già visto il passaggio, no? Che sei riuscita a staccarti, prenderti un annetto sabbatico da tutto e viverti un attimo la tua quarantena, chiamiamola così, in questo periodo per prepararti poi a tornare ed essere pronta, no? A fare questo passo. Però poi se c'è qualcosa che riconosci ora di praticamente migliore, se vogliamo chiamarlo così, ma anche che è cambiato nel tuo approccio nel fare le cose. Boh, mi viene a dire tutto. Cioè, è un percorso lungo, no? Dici mica niente. Se mi dicevi niente era da esplorare, però tutto è interessante. Sì, nel senso che è un percorso lungo per cui è stato... Non è che partissi da una tabula rasa e improvvisamente tutto si è diventato chiaro. E' difficile anche riuscire a definire le cose precise, no? Perché semplicemente adesso ho acquisito delle cose che ho nel mio bagaglio, punto. E mi risulta anche difficile pensare a quando le ho acquisite o in che momento. Però so che due anni fa non le avevo e non ero così ricca in quel senso. Ok. E sicuramente mi ha aiutato molto l'analizzare, beh, anche per come sono fatta, perché sono molto razionale. Amo l'essere razionale e smembrare ogni cosa, arrivare proprio al nocciolo e capirlo. Perché quando l'ho guardato, ok, adesso posso andare avanti. Però mi ha aiutato molto il fatto di riuscire a dare un nome alle emozioni che provavo e alle varie sfumature delle cose che provavo, anche capendo bene in che modo si, in che modo perché continua a gesticolare, in che modo si manifestava nel corpo proprio. Cioè, in quale punto diverso andava a premere, so dargli un nome un po' diverso. E questo sembra una sciocchezza New Age e del corpo comunica, però è proprio un riuscire a dare un aspetto più concreto a qualcosa di aleatorio come le emozioni. E per me, che sono molto concreta, molto pragmatica, che se non tocco le cose sto male, riuscire a sentire che quando sono triste è perché ho quella sensazione lì, proprio in quel punto lì della bocca e dello stomaco, se è un po' più giù è paura. Mi aiuta a vivere molto meglio, perché capisco che in quella situazione, no Marti, non è tristezza, è paura. Cos'è che ti fa paura in questa situazione? Anche a porsi le domande più corrette, no? Perché a volte ci facciamo delle domande che ci portano ancora più fuori dal nostro sentiero e invece riuscire ad esplorarsi ponendosi la domanda corretta riduce molto i tempi di sentirsi persi, no? A me nell'altra telefonata che abbiamo avuto mi è piaciuta molto la parola legittimazione, no? La legittimazione delle emozioni ed è qualcosa che mi risuona e che mi appartiene anche a me, no? Nel mio percorso c'è stato un legittimare proprio tutto quello che sento vedendo come in realtà non è qualcosa di astratto e di fumoso, ma è qualcosa che posso trovare veramente poi nella pratica prima di tutto nel corpo e poi anche andando a relazionarmi con qualcuno riesco a riconoscere in maniera molto più plausibile ok, questo qualcuno mi sta agganciando in qualcosa in cui io sono invulnerabile oppure anche nell'innamorarsi, anche nel provare dei sentimenti di gioia, di positività per qualcuno riconosco, magari quando mi metto delle barriere di cui non ho bisogno, no? Quindi secondo me tocchi un punto effettivamente molto comune e che è molto bello da lavorare Sì, ed è anche molto difficile perché siamo i peggiori giudici di noi stessi Sono d'accordo E ci sto lavorando ancora sul fatto, cioè, mi risulta molto più facile non giudicare gli altri che non giudicare me stessa perché lo faccio inconsapevolmente Certo E giudicarti per qualcosa che provi è qualcosa di talmente inutile che ti blocca proprio, no? E quindi tutto qua, cioè, ti perdi delle cose meravigliose come lo può essere anche una disperazione pura ma che però è legittimata, non è No, perché questa cosa non dovrebbe farmi star male E ti fa star male, vabbè, accetta Perché tra l'altro è presente mentre il giudizio in genere è qualcosa che abbiamo imparato nel passato a leggere la realtà e che quindi magari ritorniamo ad essere ad avere dieci anni al posto di avere l'età da adulti che abbiamo, no? Sì, e non ci appartiene più Quella roba lì non ci appartiene più perché non sarebbe più tempo solo che non ci permettiamo di andare oltre, no? Sì Ci sono due aspetti che mi interessava esplorare che sono a me sembra che tu prima avessi fatto vabbè, già il teatro è sicuramente un percorso di crescita personale però magari avevi avuto anche altre esperienze riguardo la crescita personale avevi visto, comunque non sei nuova del settore Secondo te qual è il fattore discriminante che nel percorso con me ti ha fatto capire delle robe piuttosto che delle altre che non avevi capito o non ti erano arrivate in passato o che fanno fatica ad arrivarti ora Allora, sicuramente le cose non accadono mai per caso ed era il momento giusto era una persona giusta al momento giusto e ho avuto molto, molta fortuna in questo Cioè, nel senso nell'ottica del nulla avviene mai per caso Mani Santa mi ha messo lì in quel momento però era proprio quello di cui ho bisogno Hai visto la Madonna Esatto, esatto mi ha guardato e ha detto aspetta un attimo le mettiamo sulla strada qualcuno se una volta si perde e quindi sicuramente quello cioè che indipendente da me indipendente da te ci siamo trovati lì ed era indispensabile che fosse così e poi penso mi abbia aiutato molto il fatto di essere seguita singolarmente perché ci sono tante cose che pensi di sapere pensi di aver imparato appunto perché non ero neofita, no? che però non mi risuonavano del tutto e che di nuovo giudicavo in qualche modo, no? perché non lo so pensavo che le cose andassero fatte in un determinato modo per cui mi costringevo a farle così e e invece e invece no e il fatto di appunto essere seguita singolarmente mi ha permesso di rompere quegli schemi mentali che avevo per cui che ne so nella meditazione bisogna per forza stare zitti e respirare e guardare un punto ma no non è vero però non lo so è come se si dessero quasi per scontato perché la meditazione si fa così quando si è tutti in gruppo quindi non ti viene neanche da pensare che in realtà è un'idea che ti sei messa tu che nessuno ti ha mai insegnato no? sì quello sicuramente e mi ha permesso anche di andare più a fondo liberamente in quello che provavo sentivo anche nei disagi che provavo che invece quando sei in gruppo anche cioè banalmente non puoi monopolizzare l'incontro e parlare tu un'ora dicendo sì però questo mignolino mi ha dato un po' fastidio cosa vorrà mai dire cioè anche no anche non c'è tempo capito sono veramente sono veramente due aspetti molto interessanti sia il gruppo perché attiva delle dinamiche molto più anche più forti a volte che ognuno vive singolarmente che magari anche non esterna in gruppo c'è tanto campo no? quindi si attiva anche molto è più facile entrarci in meditazione per assurdo in gruppo perché tutti lo fanno e tutti tirano dentro tutti in individuale è proprio come usare il bisturi e andare in profondità sì io sono una grande beh poi quel lavoro che faccio non potrebbe essere altrimenti per come la vivo io sono una grande sostenitrice del gruppo no? e della forza che trai dal gruppo banalmente il teatro non esiste senza il gruppo perché il teatro è sempre un attore e un pubblico anche fatto di una sola persona non può esistere da solo quindi sono assolutamente convinta di questo e però anche dell'importanza appunto parallela di andare in profondità e di avere qualcuno lì per te in quel momento che è lì cioè è proprio lì per te nel senso non lo stai disturbando non non è che sei una lagna che piange per un'ora perché dovresti smettere no perché è libero per cui ci si aspetta che sia così non c'è niente di sbagliato in questo è molto liberatorio sì è molto molto io prima di fare delle sessioni individuali nel mio percorso personale ho fatto almeno due anni di gruppi poi quando ho scoperto le sessioni individuali ho detto no devo assolutamente continuare in questi percorsi perché finalmente ho qualcuno che per un'ora ascolta tutto quello che mi gira per la testa e che mi sa dare anche un altro punto di vista quindi perfetto sì 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 perché a volte ci incastriamo in cose che visto da fuori sembrano così ovvie ma visto da dentro non lo sono per niente assolutamente e l'ultima cosa che volevo chiederti in parte mi hai già risposto prima con una frase ma senti di avere perché per me è molto importante per esempio l'autonomia dopo un percorso fatto con me quello che mi auguro è che la persona riesca a portarsi degli strumenti nella quotidianità al di là di mettersi a fare di nuovo gli esercizi formalmente però proprio quella qualità che permetta di riconoscere degli aspetti del lavoro che abbiamo fatto assieme anche dopo mesi anni dal percorso che abbiamo fatto senti di averli acquisiti come te li gestisci sì e no nel senso che sicuramente ho acquisito tantissime cose però ho anche alzato la sticella no? per giorno per cui appunto come dicevo prima ci sono delle cose che ormai ho acquisito non sono neanche più consapevole di averle acquisite mi sembrano cioè sono proprio interiorizzate per esempio vediamo se dire per esempio quella cosa che dicevo prima di analizzare da dove mi viene ok o anche spesso il fatto di cercare di godermi il momento presente non proiettarmi sempre in avanti e dire no stasera mi guardo un film va bene così e sono felice di questo e godermelo mi viene in mente anche lo strumento che usi con i bambini che mi avevi detto l'altra volta delle emozioni no? di sentire le emozioni ad occhi chiusi nel corpo che abbiamo affrontato anche prima sì beh c'è nel mio lavoro a pacchi proprio ma perché è bellissimo anche perché un'altra cosa che faccio con i bambini che mi piace tantissimo che in realtà è una cosa che mi sono inventata io però a partire da questo è che ogni volta faccio sempre un cerchio in cui gli chiedo come stanno e quando sono in vena non sempre ma quando sono in vena gli chiedo di dirmi come stanno ma con una parola specifica cioè non dirmi bene o male ma dirmi oggi sono entusiasta oggi sono disperato oggi sono arrabbiato cioè non rimanere nel bene e nel male no? che non dici niente tantissime volte soprattutto nei gruppi quando che appunto si crea quella sensazione di ma potrò dire come sto all'inizio no? tutti mi rispondono sì sì bene che vuol dire quel bene e poi arriva no? cioè è vero che è importante dettagliare dettagliare ad andare proprio a sentire ma è anche un legittimarsi a riconoscerlo per se stessi come sto e rispondere e rispondere sinceramente no? non rimanere usi nello stereotipo devo stare bene per forza che poi bene cosa vuol dire? cioè nel senso la salute va bene però i rapporti van malissimo e allora stai bene dove? oppure il cioè cosa vuol dire sto bene? per te soprattutto perché magari per me vuol dire tutt'altro però d'altro canto dicevo si è alzata l'asticella no? per cui sono autonoma in alcune cose in cui magari due anni fa non lo sarei mai stata però non sono minimamente autonoma in altre cose perché vado sempre più in profondità ed è sempre più oscuro e intorcolato per cui ho sempre bisogno che ci sia qualcuno che mi dia una mano pensa che nella tradizione del giudizio no? cioè proprio tutto un filone di lavoro sul giudice interiore dicono che evolve con noi quindi anche quella quella parte per quello conto molto sull'autonomia perché non è che facciamo dei pezzi e quelli sono per tutta la vita no? sono i pezzi che ci servono nel momento presente nel nostro periodo però avere degli strumenti per dire ok il mio giudizio si sta ingrandendo come sto io come riesco a tenere testa e semplicemente non cadere di nuovo in quella trappola è secondo me una cosa fondamentale e molto importante bene 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 allora sì ti ringrazio per questo tempo che abbiamo vissuto assieme anche per il percorso e ti faccio di nuovo i complimenti per quello che hai potuto fare perché ovviamente dipende molto dal partecipante chiamiamolo così grazie no niente è stato bello è la cosa migliore che potessi dire grazie grazie